Ovviamente dobbiamo partire dall'atteggiamento, che poi secondo me la prestazione viene fatta anche in base all'atteggiamento che si mette in campo. Domenica a Gavorrano è stata una partita importante, ovviamente il risultato finale ha dato merito a quello che i ragazzi hanno fatto in campo. Io penso che i risultati si possano ottenere con la prestazione e con l'atteggiamento giusto. L'hanno fatto, quindi hanno dimostrato che possono farlo anche in futuro, che si possa giocare contro il Gavorrano, contro il Flaminia, contro il Livorno, perché comunque hanno delle qualità importanti. Ovviamente io ho visto la classifica e purtroppo siamo ancora nei play-out, quindi non possiamo alzare tanto la testa, dobbiamo tenere la testa bassa, pedalare, come abbiamo fatto domenica, come hanno fatto tutta questa settimana, perché poi ovviamente i risultati ti portano anche ad alzare il morale, l'autostima e questo in questa squadra, in questo gruppo è fondamentale, perché poi lavori con serenità, lavori bene, lavori con entusiasmo. Ovviamente non ci devono essere cali di attenzione e di concentrazione, perché penso che possa essere la cosa debole di una squadra che deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Quindi la partita di domenica dobbiamo riproporla domani, ovviamente abbiamo un avversario differente, un avversario che comunque soprattutto nel reparto avanzato ha grande qualità, si difende bene, ha una struttura fisica e quindi dobbiamo essere bravi a... sicuramente sarà una partita che penso saremo improntati a farla noi, quindi dovremo sbagliare il meno tecnicamente per far sì che possiamo innescare i nostri giocatori davanti che possano fare la differenza, come poi è successo domenica. Per quanto riguarda i nuovi acquisti, di Erna sta bene, adesso sto valutando se farlo partire dall'inizio. Daniele Bolcano forse è peggio, è meglio del previsto l'infortunio, quindi sta anche reagendo bene la caviglia. E niente, poi rientrano sia Marzelli che Immobilio a disposizione e quindi siamo quasi tutti a parte Nunziati e Bolcano. C'è sempre da migliorare, partita dopo partita, perché poi magari fai una prestazione buona come abbiamo fatto domenica, però magari qualche giocatore può fare ancora di più, soprattutto magari nell'uno contro uno, nella rifinitura, nella conclusione in porta. Quindi io mi aspetto che ogni settimana che passa, anzi giorno per giorno, dobbiamo migliorare. Se dovessi vedere dei passi indietro di giorno per giorno, settimana per settimana, vuol dire che sto sbagliando qualcosa, stiamo sbagliando qualcosa. Ad oggi non l'hanno, stanno dimostrando il contrario, quindi una crescita importante di squadra, che poi è quello che alla fine ti fa la differenza. Andrea comunque è un giocatore di qualità, che gioca nel corto, gioca nel lungo, quindi come abbiamo visto batte bene i calci piazzati, che è un'arma in più, soprattutto magari quando le partite sono bloccate. E penso che comunque i giocatori di qualità li abbiamo, perché anche comunque Cretella, Sabelli, sono giocatori, Riccobono, Mobiglio, Senigalliesi, Boiga, Benucci, comunque sono giocatori che possono farlo in maniera importante e devono farlo. Perché se no vuol dire che sbagliano loro a non fare delle giocate e magari sbaglio io a farli giocare. Per quanto riguarda Flaminia, la partita a Gavorano-Flaminia ero a vederla, quindi li ho visti dal vivo. E comunque è una squadra che, ti ripeto, in mezzo al campo e davanti hanno qualità, sono bravi a chiudersi e ripartire, soprattutto con Sigibu, che è comunque un giocatore importante, comunque di esperienza anche Casoli, Benedetti, comunque sono giocatori che hanno fatto anche categorie superiori. È una squadra che comunque si difende bene, ha struttura fisica, noi non possiamo essere domani lenti nel giro palla, dobbiamo far andare questa palla 100 all'ora, perché se no loro sono bravi a chiudersi, a chiudere le linee di passaggio. Comunque nell'uno contro uno sono discreti, quindi dobbiamo essere bravi, dobbiamo fare una partita propositiva, propositiva dando, prima di tutto, pressione quando loro hanno la palla. Perché se li fai giocare, li fai palleggiare, sono una squadra che ti può mettere in difficoltà e a Gavorrano sei visto. E poi devi essere bravo nelle giocate di qualità, devi essere bravo nell'uno contro uno, avere coraggio di andare a puntare l'avversario, perché è quello che sto chiedendo soprattutto a chi lo deve fare, che sono soprattutto i nostri esterni d'attacco. E poi ovviamente se loro dovessero chiudersi e noi andiamo a sviluppare sulle fasce, andare al cross e riempire l'area di rigore, perché poi diventa fondamentale andare con gli inserimenti dei centrocampisti, come abbiamo visto lo possono fare. Comunque anche Sabelli, Cretella, Sacchini, Cela sono giocatori che lo fanno e lo fanno anche bene. Per quanto riguarda difesa 3 al momento no, però era già successo col Trestina che comunque avevamo provato per mettere qualche giocatore offensivo. Può essere una soluzione, l'anno scorso la seconda parte a Pistoia era andato alla difesa 3, ovviamente si valuterà la partita in corso. Partita in corso o settimana per settimana. Adesso abbiamo ritrovato delle certezze così, quindi Edo... No, ma in futuro dicevo. Sì, sì, sicuramente, perché poi quando vai anche a affrontare, quando devi sbloccare delle partite, quando ci saranno da recuperare delle partite, sicuramente i due attaccanti mi piacciono. Quindi sono due giocatori che possono benissimo giocare insieme.